il treno regionale 10 3 1 2 di treno orde proveniente da pavia e diretto a mortara delle ore 5 e 50 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma agropello cairoli garlasco tromello gambolore mondo il treno regionale 46 51 di treno orde proveniente da vercelli e diretto a pavia delle ore 6 e 14 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cava carbonara il treno regionale 46 52 di treno orde proveniente da pavia e diretto a vercelli delle ore 6 e 50 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma agropello cairoli garlasco tromello gambolore mondo mortara nicorvo robbio palestro il treno regionale 46 75 di treno orde proveniente da mortara e diretto a pavia delle ore 15 e 14 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cava carbonara carbonara